Una finice con la scritta più forte del destino, il simbolo di rinascita, l'ho fatto subito dopo l'incidente come simbolo di rinascita, una finice araba che risorge dalle sue ceneri. Poi c'è un altro che è un po' più diciamo ironico che è questo che ho sul polpaccio, Wanted Right Leg, che è un cartello in cui ricerco la mia gamba destra che è andata persa ormai.